Il Comitato di Borgo Santa Maria chiede al Sindaco di Pesaro Matteo Ricci il rispetto di una delibera del Consiglio Comunale di 6 anni Orsono o perlomeno chiede spiegazioni dal primo cittadino. Spiegazioni reclamate da Dante Roscini e Giovanni Zona, rispettivamente portavoce e presidente del Comitato, che appoggiati dall'Avvocato Silvia Pierini hanno convocato oggi una conferenza stampa per esprimere le forti perplessità sulla realizzazione di alcune opere compensative di società autostrade. Opere da fare e non da decidere se pagare o meno attacca il Comitato, riferendosi alla delibera 114 del 2016 e riferendosi anche alla rinuncia espressa dal Sindaco Ricci a una parte di queste opere come il raddoppio degli interquartieri. Questo perché, secondo la delibera, risulta che le opere previste, compresi gli espropri, sono a carico di società autostrade e non del Comune. Valutazioni che il Comitato ha approfondito partendo dall'insostenibile analisi del carico di traffico attuale sulla zona di Borgo Santa Maria. Borgo che ritiene vitali le opere compensative previste dallo stesso punto 4 della delibera in questione, senza oneri da parte del Comune. Dice di precisare che il costo per la realizzazione delle opere compensative previste dal progetto definitivo è posto a carico della società autostrade per l'Italia, compreso gli oneri espropriativi. Quindi non parla di soldi questa delibera, parla di opere. Parlando di opere si intende che devono fare quel lavoro, non è quel lavoro per tot soldi, per tot milioni. Per cui se il Sindaco è venuto fuori dicendo che mancano 5 milioni, cosa c'entra? Lui deve avere le opere. Allora o ha fatto un accordo diverso, diverso da quello che sta scritto in delibera e noi almeno dalla nostra ricerca, poi possiamo sbagliarci, per carità è umano, dalla nostra ricerca non ci sono delibere che dicono il contrario. Per cui essendo poi venuti a conoscenza di altri soldi che mancano e quant'altro, già ha dichiarato lui di rinunciare al raddoppio degli interquartieri. La domanda è semplice. Uno, perché non rispetta la delibera? Due, anche se credo di no, siamo sicuri di no, ma anche se ci fosse un'altra delibera che dice il contrario, cioè come può lui decidere su quali sono le opere stabilite dal Consiglio Comunale. Anche perché facciamo riferimento all'articolo 29.1 dello Statuto del Comune che dice che le direttive vengono date dal Consiglio Comunale ed è il Consiglio Comunale obbligato a controllare e verificare quello che succede. Per cui il Sindaco non può decidere, decido io, faccio io, ma come si permette senza andare in Consiglio Comunale? Il Comitato ha inviato anche una richiesta d'incontro al prefetto Tommaso Ricciardi esprimendo la forte preoccupazione sulla corretta applicazione della delibera in questione.